Quanto tengono i carabinieri a questo calendario? Tengono tantissimo i carabinieri a questo calendario che rappresenta l'anima anche dei carabinieri, la sua storia. Nel calendario è racchiusa anche, come in questo periodo, una parte significativa della storia della nostra istituzione, quella riferita ai 50 anni che vanno dal 1914 al 1964. Quest'anno, infatti, tocchiamo, con il 2013, la terza parte dei 200 anni di storia dell'anima i carabinieri. È un oggetto, tra l'altro, molto richiesto e molto collezionato da parte del pubblico e da parte anche degli stimatori dell'arma. Ci sono figure come quella dei quattro marescialli che sono stati ritenuti giusti tra le nazioni qualche anno fa. Rappresenta per voi in particolare vanto perché questo è un modo anche per testimoniare ai più giovani che non c'è soltanto l'impegno al contrasto ma c'è soprattutto l'esempio. Nel calendario sono rappresentati anche quei valori, valori della nostra organizzazione, tra cui anche i valori morali, i valori su cui è imposata la nostra attività. Questi quattro carabinieri rappresentano per noi tanto dal punto di vista proprio di esempio e di moralità. Sono una bellissima scorsa per le nostre coscienze.